Jan Rose, noto atleta estone di Slakline, ha compiuto un'impresa storica che rimarrà in pressa negli annali dello sport estremo. Dopo mesi di preparazione e allenamento, Rose è riuscito a superare i 3.600 metri che separano Santa Trada, Villa San Giovanni, da Torre Faro, Messina, camminando su una Slakline larga appena 1,9 centimetri. Questa straordinaria performance ha avuto luogo con una concentrazione fuori dal comune e una preparazione fisica e mentale impeccabile. Rose ha iniziato la traversata dalla costa calabrese, muovendo i primi passi verso la Sicilia. L'impresa, della durata di circa 3 ore, per la precisione 2 ore e 56 minuti, ha visto l'atleta affrontare non solo la lunghezza eccezionale della Slakline, ma anche le difficoltà derivanti dal vento e dalle correnti marine dello stretto di Messina. Note per la loro imprevedibilità e per le forti correnti. La Slakline è stata ancorata su entrambe le sponde con una precisione millimetrica per garantire la massima sicurezza e stabilità dell'atleta. Durante la traversata, Rose ha mantenuto una velocità costante e ha dimostrato un equilibrio e una resistenza straordinari. L'evento è stato seguito da numerosi spettatori, sia sulle rive che attraverso le dirette sui social media, attirando l'attenzione di appassionati di sport estremi e curiosi di tutto il mondo. Purtroppo, però, durante gli ultimi metri, Janne è scivolato sfiorando un record e un'impresa già esistente, ma che poteva rasentare la perfezione. Perfezione, purtroppo, sfumata nei punti finali della traversata sospesa. L'impresa di Rose, nonostante tutto, rappresenta un traguardo importante non solo per il mondo della Slakline, ma anche per il panorama degli sport estremi in generale, dimostrando ancora una volta come il coraggio, la preparazione e la determinazione possono spingere i limiti umani verso nuove frontiere. L'evento stesso ha suscitato grande entusiasmo e ammirazione con numerosi esperti e appassionati che hanno lodato la determinazione e le abilità di Rose. Questo successo avrà sicuramente un impatto duraturo, ispirando future generazioni di atleti a spingersi oltre i propri limiti e esplorare nuove sfide. E chissà, magari proprio Janne Rose riproverà senza caduta ad effettuare nuovamente l'impresa.